Pallone subito recuperato dalla pizzeria Claudio e Claudio con il tiro di Dolor che sblocca la partita 1-0 nei primi minuti di gioco pizzeria Claudio e Claudio in avanti C'è Pilosu sulla sinistra, lo ignora, va dall'altra parte intelligentemente l'apertura sulla destra con il tiro al volo smorsato fuori il Peperino avanti di una decina di posizioni intanto assistiamo al gol che riporta la partita in pareggio 1-1 tra le due squadre un po' di testa di Canco da allontanare con il pallone che rimane lì in zona pericolosa per il Peperino che può tentare nuovamente la conclusione provano a portarsi in vantaggio adesso Littra con il destro a sorpassare tutti ad uscire però all'angolino in avanti a difesa scoperta ne provano ad approfittare con la girata a due passi dal portiere portiere battuto ed eccolo il vantaggio del Peperino 2-1 occasione del gol di qualche azione fa il numero 5 della Claudio e Claudio intanto il pallone in avanti è un ulteriore stacco per il Peperino 3-1 adesso la situazione prova ancora il Peperino con il tiro a giro qui ad un soffio dalla traversa con il mancino basso spiazzato il portiere dal rimbalzo sulla barriera e allora accorciano le distanze gli ospiti 2-3 attacca il Peperino lo fa con 3 dei suoi uomini il pallone direttamente sul palo intercettato qui il filtrante molto buono l'intervento difensivo può ripartire addirittura con l'Ittera il pallone sul portiere il pallone a cercare di far prolungare con il lungo tiro dalla distanza che chiama al volo il portiere avversario buono il disimpegno qui difensivo addirittura a far prolungare a proseguire il numero 10 al limite dell'area di rigore che in maniera fredda mette dentro 4-2 nuovo stacco del Peperino prova a sfondare velocissimo sulla destra si fa tutto il campo mette il pallone in mezzo che rimane lì a terra il portiere e c'è anche il gol della manita 5-2 al termine di una splendida azione corale iniziata sulla fascia destra con ancora Kanku finisce qui la partita sono tre gol di differenza tra Peperino e Pizzeria Claudio e Claudio la partita finisce per 5-2 e poi la partita finisce per 5-2